Ogni anno il 2 febbraio celebriamo una festa significativa, la presentazione di Gesù al Tempio e come ogni anno, da qualche anno a questa parte, ritroviamo padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista che ci aiuta a comprendere anche queste giornate. Ben trovato, buona Pasqua della settimana padre Ernesto. Eh sì, bisogna proprio dire buona Pasqua della settimana, perché quest'anno il 2 febbraio, carissimi amici, anche a te Anna Maria, ricapita proprio di domenica e quindi noi oggi, solennità del Signore, la festeggiamo con la luce della Pasqua. Questa festa molto bella, noi la chiamiamo la presentazione di Gesù al Tempio, una festa che ci ricorda che 40 giorni dopo la nascita Maria ha portato il primo genito Gesù al Tempio per riscattarlo, offrendo due torto e due colombe, secondo la legge data a Mosè. Questo adempimento della legge, tra l'altro è il primo incontro ufficiale, potremmo dire, di Gesù con il suo popolo, che incontra in queste due figure, un uomo e una donna. In Lucca c'è sempre parità di genere, Simeone e Anna, che non sono per niente sacerdoti ma profeti, anche se profeti direi proprio di periferia, persone però ispirate dallo Spirito Santo. C'è da dire anche, cara Anna Maria, che questa festa in realtà i nostri cristiani la chiamano i papante, l'ipapante del Signore, cioè il santo incontro, perché è un incontro e anche una manifestazione. Maria entra nel Tempio per manifestare al mondo colui che ha dato la legge e la porta a compimento, Gesù è colui che porta a compimento la legge e Maria accompagna il figlio nella sua prima offerta al padre, questo è veramente bello. E' l'incontro, il santo incontro tra il figlio unigenito e il padre. Questa festa è molto antica e attestata già nel IV secolo a Gerusalemme, poi è passata nelle liturgie occidentali con la caratteristica processione delle candele che faremo anche noi oggi. E poi da questa festa trae origine il terzo cantico che ogni giorno noi recitiamo, questo a compieta, è il cantico del vecchio Simeone, il quale prendendo tra le braccia il piccolo Gesù ringrazia Dio e riconosce in questo bambino luce per la rivelazione alle genti e la gloria del popolo di Israele. L'episodio è davvero molto importante perché Luca nei Vangeli dell'infanzia fa teologia. Qui ci sono alcuni temi veramente importanti. Innanzitutto c'è l'obbedienza alla legge, la centralità della città santa, del Tempio, la presenza dello Spirito che poi è il grande protagonista della scena e il compimento di tutte le promesse. Gesù è colui che è l'atteso, lui è la consolazione di Israele ma anche dei gentili. Per cui al centro poi della scena troviamo questi due profeti, non due sacerdoti, lo ribadiscono, Simeone e Anna. Stranamente Luca non racconta di un'accoglienza fatta dai sacerdoti. Gesù entra nel Tempio già come il figlio di Dio, lui è il figlio di Dio, non ha bisogno nemmeno del riscatto e nemmeno Maria ha bisogno di purificarsi perché la legge diceva che la donna che aveva partorito, un maschio, doveva purificarsi 40 giorni dopo. Lei è la che carito bene, l'ha trasformata dalla grazia, quindi molto bella questa parità di genere, Simeone un uomo e Anna una donna, anche se caratterizzati in modo molto diverso. Simeone viene definito giusto, pio, mosso dallo Spirito, lui è il destinatario del dono della rivelazione, ha aspettato per anni di vedere davvero colui che è la consolazione di Israele. Dall'altra parte poi c'è Anna, che è una presenza femminile, una sorta di donna che vive quasi di nascosto nell'aria del Tempio e che pure aspettava davvero la venuta del Signore. Luca, veramente meraviglioso, mette al centro di quello che per noi è il quarto mistero gaudioso queste parole dei due profeti. E attraverso le parole di Simeone e Anna, in realtà, cari amiche e cari amici, viene presentata tutta la vicenda di Gesù. Quindi c'è davvero tutta la teologia su chi è questo bambino che è nato santo e che è la presenza stessa di Dio. Lui è il Tempio del Padre, lui nella sua persona c'è l'incontro con il Padre. Per cui l'offerta di Gesù al Signore viene raccontata un po' come è successo sul modello di Samuele. Luca insiste molto su questa figura di Simeone e di Anna. La figura di Simeone è molto commovente. È l'ultimo profeta che rivela a Israele la venuta del Messia. Questa profezia di Simeone conclude un tempo, quello dell'attesa, e inizia il nuovo tempo. Non c'è più il tempo dell'attesa, ma c'è il tempo nuovo del compimento. Ecco perché Simeone, un po' come Giovanni, si colloca nel passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento. I suoi occhi, le sue mani accolgono, il suo cuore gioisce nel vedere nel volto del bambino quella salvezza portata a compimento. E il suo canto è una sintesi proprio lirico orante di tutta la teologia di Luca. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo davvero la tua volontà. Simeone riconosce nella forza dello spirito in quel bambino il figlio di Dio. E confessa la sua fede. Canta il suo stupore e la sua gioia. Ed è un canto che noi ogni sera lo facciamo a compieta. Davvero è indicativo tutto questo, perché dovremmo capire quanto sia importante a fine serata avere gli occhi del cuore di questo anziano, che vedono ancora già quello che non è ancora visibile. E lo confida a Maria, la madre. Questo bambino sarà un segno di contraddizione, dice Simeone. Perché? Perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Chi lo accoglie avrà la resurrezione di vita, chi lo rifiuda cadrà inevitabilmente nelle maglie malefiche del mare. E anche a Maria profetizza. A te una spada trafiggerà l'anima. Chi di noi non ricorda queste statue di Maria vestita di nero con sette spade nel cuore. Cosa vuol dire? Beh, secondo un'opinione diffusa da secoli, quella spada predetta da Simeone a Maria sarebbe il dolore acerbissimo che la Vergine provò durante la passione e la morte del figlio. Ma al di là di questa interpretazione più antica non dobbiamo dimenticare che la spada è nella Bibbia il simbolo della parola. Per cui bisogna dire che Maria in qualunque ora ha seguito il figlio, anche nella passione, è la donna che accoglie sempre quella parola, quella volontà di Dio sulla propria persona. Lei è la madre del Messia, la madre di Gesù, la madre del Salvatore, ma anche la madre di Dio. Per cui è una donna che ha sempre aperto il cuore alla parola. E noi dovremmo, come lei, desiderare di consegnare tutta la nostra esistenza al Signore. Ecco perché è interessante che poi più tardi, quando il bambino avrà 12 anni, i saggi del tempio, i dottori si meraviglieranno della sapienza di questo bambino, ma lui è il figlio di Dio. E quando Gesù rivelerà alla fine della sua missione qual è veramente tutto lo scopo, lui è il tempio nel quale ognuno di noi può incontrare il Padre. E Luca presenta anche questa figura femminile come Simeone. Potremmo dire che questi due personaggi rappresentano quelli che la Bibbia chiama Anawim Madonai, i poveri del Signore. È una donna che ha sempre vissuto arrangiandosi nell'area sacra del tempio. La vorrei quasi definire buonariamente una vecchia straccione che dorme sotto qualche portico e gira con le sue piccole cose. È lì da 60 anni, è rimasta vedova dopo sette anni di matrimonio e ora sta da tanti anni nel tempio, prega e digiuna aspettando colui che è la consolazione di Israele. Bella questa indicazione. Serve Dio giorno e notte, quasi di nascosto, perché agli occhi dei potenti delle guide di Israele lei non è nessuno, ma nella forza dello spirito Anna, che significa forza di Dio, sa leggere i segni dei tempi e anche il progetto di Dio. Lei fa parte di quel popolo che aspettava. Anna è profetessa proprio perché parla del bambino. Si rende conto che quel bambino, che può essere insignificante agli occhi del mondo, in realtà è il figlio di Dio, è la presenza vera di Dio in mezzo al suo popolo. Ecco perché poi Luca dirà il bambino cresceva e si fortificava. Quindi oggi, celebrando questa festa, noi cristiani siamo condotti a ricordare di dover riconoscere il Signore, la sua missione di salvezza. Dovremmo fare nostra la professione di fede di Simeone col cantico e la forza di fede di Anna. Per cui davvero questo quarto mistero gaudioso, Gesù è il santo, appartiene a Dio e il suo figlio, e la presenza in mezzo a noi è la presenza del Padre. Noi come Simeone e Anna dobbiamo alzare un canto di lode al Signore perché davvero abbiamo compreso che Lui ci ha aperto gli occhi, la forza dello Spirito, per accogliere la meraviglia del Signore. Ecco allora che il nostro Salmo oggi ci invita. Sollevate porti i vostri archi, spalancatevi, soglie immortali, fate entrare il re della gloria. Cristo ancora una volta vuole quel Natale intermedio, quella nascita intermedia, vuole regnare nei nostri cuori. E diamo testimonianza, continuiamo a dare testimonianza. In questa luce che oggi si fa più forte, la luce di queste candele, dobbiamo impegnarci a diventare noi stessi luce per essere trasparenti nella nostra vita. Dovremmo andare incontro al Signore che ci viene incontro. Tornano tutti quei motivi che abbiamo visto nell'Avvento, nel Natale e quando abbiamo definito che effettivamente il Natale è un incontro, la Pasqua è un incontro, l'Epifania è un incontro, anche oggi l'Ipapante è un santo incontro. Dio continua a venirci incontro, non solo per farci comprendere il progetto salvifico del Padre, ma perché ognuno di noi lo accolga e si umanizzi. Abbiamo proprio bisogno di un mondo dove si viva più in pace e dove veramente possiamo prosperare gli uni accanto agli altri, cercando di condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo. Grazie Padre Ernesto, come sempre è molto profondo il nostro incontro e ci aiuta anche a riflettere durante la settimana. Vorrei alla fine della nostra trasmissione, proprio brevemente, salutare tutte le amiche e gli amici, in particolare quelli che mi hanno chiamato da Crotone, le cari amiche e sorelle carmelitane, l'Anfranco, questo anziano Signore che ha chiesto preghiere e che ci segue, e insieme a lui soprattutto gli anziani e gli ammalati che ci seguono. Siete nel nostro cuore e nella nostra preghiera. E quindi da parte nostra, di tutto lo staff di conversazioni bibliche, è assicurata che vi ricordiamo alla mensa del Signore e nella forza dello Spirito vi raggiunga il suo amore. Shalom. Shalom. Shalom.